No rega, che sta succedendo? Che bella la Champions Che bella questa competizione La competizione più bella del mondo La competizione più bella di questo mondo Che ci regala emozioni a non finire dei quarti di finale Pazzeschi Delle partite davvero pazzesche E non mi capacito davvero Di come questa competizione Veramente sia così bella, cavolo Perché davvero Se paragoniamo la Champions League scorsa a questa C'è un abisso Perché ogni partita qua è bellissima Non c'è nessuna partita scontata Oggi ne abbiamo avuta la pura dimostrazione Perché il Barcellona sta perdendo 3-1 Contro il Paese Angermen Mentre il Borussia Dortmund sta per compiere Un'impresa Visti anche i pronostici contro l'Atletico Madrid E sta vincendo per 4-2 La squadra di Edintersic E si qualificherebbe alle semifinali Pensa Però manca ancora qualche minuto Quindi può succedere comunque di tutto E vabbè il PSG la chiude Il PSG la chiusa Il PSG la chiusa con Kylian Mbappé Ok vabbè Il PSG passa 4-1 4-1 in Spagna 4-1 Devo dire la verità Non me l'aspettavo Cioè mi aspettavo il passaggio del turno Di Paris Angermen Ma non in questo modo Io pensavo in una vittoria al Parco dei Principi E un pareggio al ritorno Invece dopo la sconfitta del PSG A Parigi Non pensavo in una rimonta del genere Complimenti al Paris Angermen Ma ora analizziamo la partita Perché La vittoria è meritata La vittoria per quello che ha fatto vedere Il PSG È meritata Però vi posso anche dire Che ragazzi Il Barcellona si è ucciso da solo Perché poteva farcela Il Barcellona Aveva tutti i mezzi Per farcela A mio avviso Poi ovvio che se tu La butti Se tu Questa qualificazione La butti veramente Nell'umido Diventa difficile Perché il PSG È una squadra Fortissima È una squadra con Tanti giocatori Tra giovani Ed esperti Davvero Il Barcellona Non è forte quanto Il Parigi Cioè Non è forte quanto Il Paris Angermen Insomma Però Detto questo Barcellona Il PSG 1-4 Primo tempo Nel primi 25-30 minuti Decisamente meglio Il Barcellona Perché è vero Che il PSG Tiene molto più palla Però è vero anche Che il Barcellona La sblocca Con una grande giocata Di Yamaha Sulla destra Clos per la figna Che la mette dentro Che la deposita in rete Ma in generale È parso un Barcellona Molto più in palla Rispetto al Paris Angermen Che non è che ha fatto Una partita orrenda Nella prima mezzola Solo che non ha trovato Quel witz in più Si è giocato molto Sulla fascia sinistra Barcol Barcol Ha seguito Servito Volevo dire Molto Infatti Il Paris Angermen Ha giocato molto Sulle fasce Però è chiaro Che dopo l'1-0 Il Barcellona Il Barcellona Ce l'aveva in mano Ce l'aveva in mano Perché il PSG Ne ha avuto di più Si ma ne ha avuto di più Perché Arauco Commette una sciocchezza Commette una sciocchezza Ma più che Arauco Insieme La difesa del Barcellona Perché Non è possibile Lasciare così tanto campo Al Paris Angermen Non è possibile Lasciare così tanto campo A Barcolà Che sappiamo Che è un velocista E davvero Sulla palla in profondità Per Barcolà Arauco Ultimo uomo E rosso Ecco Guerre rosso lì Ha ucciso il Barça Guerre rosso lì Ha ucciso il Barça Ed è stato un rosso Che ha pesato veramente Più del dovuto Forse Si Però è chiaro Che non puoi permetterti Queste cose E il Borussia Dortmund Appare in semifinale Nel mentre Wow Wow Che partita Dortmund Però è chiaro Che non ti puoi permettere Quell'errore Ultimo uomo Rosso Sotenti Indiscusso A mio parere Non ci sono dubbi A riguardo Non ci sono dubbi A riguardo Anche perché Non c'erano difensori dietro E è chiaro Che Arauco Frana su Barcolà Dopo 1-0 Il Barcellona In pochi minuti Trova il pareggio Con Dembele Cross da sinistra De Barcolà Proprio Tra l'altro Uno dei migliori in campo Dembele Dopo i primi 30 minuti Di difficoltà Trova il pareggio Tra l'altro Un gol Neanche semplice Per la dinamica E dopo E dopo L'1-1 Il PSG Inizia seriamente A giocare Per esempio Con una parata Importante Di Ter Stegen Sumbapé A mano aperta Nel secondo tempo La scuola di Luis Enrique Spinge ancora di più Primo perché Hakimi Trova una risposta Di Ter Stegen Su un tiro centrale Ma Ter Stegen Stava commettendo Un errore Che poteva pesare Carissimo Perché La para Quasi col gomito Anzi L'Ever Quasi la para Col gomito Ma la diversione Potrebbe ingannare Tantissimo Poi il PSG Come vi dicevo Ha spinto molto E un altro errore Il Barça E lasciare Vitigna Così libero Vitigna E letteralmente Incantato Sia al ritorno Che all'andata Il PSG E da Più o meno Saranno 17-20 metri Lascia andare Un tiro Imparabile Per Per Stegen Ma Veramente È lasciato Troppo solo Tutta la libertà Del mondo E fa 2-1 Ecco Sugli 1-2 Ragazzi È un'altra dimostrazione Che il Barcellona Non ha avuto testa Perché Xavi Si fa spellere Aveva perso la pazienza Gudogan Colpisce il palo esterno Che ancora trema E poi Il PSG Non dico la chiude Ma mette una Pietra In tombale Sulla partita Perché Canseiro Commette uno degli errori Più stupidi Sul pianeta Terra Perché Non puoi fare fallo In quel modo Nel senso Dembélé Era Abbastanza Non dico defilato Però Dembélé Era sulla destra Canseiro Commette un fallo Da rigore Stupidissimo Un rigore Nettissimo Assolutamente Canseiro Frano Per l'appunto Dembélé Ma Dembélé Non stava creando niente Non c'era alcun pericolo In corso Così Canseiro Di botto Interviene Tra l'altro Canseiro Pompatissimo Sopravvalutato Secondo me Per i miei gusti Perché è un giocatore Che sicuramente Molto bravo ad attaccare Ma difensivamente Ragazzi Dai Cioè Sarà mai un caso Che al Manchester City Al Bayern Monaco Non ha trovato spazio Sarà un caso E oggi Commette un errore Che davvero è difficile Da perdonare Però Sono errori che possono capitare Rigore trasformato Da Kilian Air Football Bappé Che continua ad essere Un giocatore incredibile Nonostante prima Non avesse giocato Una gran partita Bappé Freddissimo Dagli 11 metri Firma il 3-1 Per il PSG Che ripeto Quasi chiude la partita Quasi chiude La partita Sì Il Lewandowski Ha avuto qualche occasione Qualche tiro Bravo Donnarumma Che rispinge Il suo tiro in mano aperta Però il PSG La chiude definitivamente Con un altro gol Di Kylian Bappé Almeno il numero 89 Dunque PSG E Borussia Dortmund Alle semifinali Tra l'altro Si affronteranno E la vincente Andrà contro La vincente Sulla del gioco di parola Di Real Madrid Manchester City E Bayern Mora Quartel Quindi potremmo vedere Una finale pazzesca Per esempio PSG Real Madrid O PSG Manchester City O chissà Magari Borussia Dortmund Anche se è quasi impossibile Il Dortmund Vince per 4-2 Sul campo dell'Atletico Gol mangetto Da parte di Morata Il Borussia Dortmund Era andato in vantaggio Per il 2-0 Nel secondo tempo L'Atletico rimonta E pareggia la partita Che gli sarebbe Vassa la qualificazione In semifinale Ma poi il Borussia Dortmund Segna due gol Rispettivamente con Fulkrug E con Savitzer In tre minuti E ribalta Nuovamente tutto Il Borussia Dortmund A prova dalle semifinali Senz'altro quel gol di Di Morata Di Borato Pesa Ma questa era Un'occasione d'oro Per l'Atletico Aveva eliminato l'Inter Che con tutto rispetto Per il Borussia Dortmund Il Borussia Dortmund È di tanto inferiore Ad Atletico E Inter Secondo me In campionato Non se la sta passando Benissimo Ok? Ha passato il girone Ma non era un giro impossibile Quindi questa qua È un'occasione d'oro Sfruttata malissimo Dall'Atletico Madrid Che la butta Completamente Nell'umilo Complimentissimi Al Borussia Dortmund A cui non avrei Mai dato un euro All'inizio di questa Champions League Quindi Davvero bravi I miei pronostici Completamente ribaltati All'inizio di questo